L'età si può contare in anni, ma la vita si conta in altri modi. 9 fantastici viaggi, 20 anni di risate e 19 vitamine e minerali di Meritene. Con in più le proteine, che aiutano a rafforzare i muscoli. Non contare gli anni, falli contare con Meritene Forza e Vitalità.